Ma come? Ma allora è poliziotta? Ma che è poliziotta? Ma come sta fai? Ma guarda allora è poliziotta! E' una verità! E' una verità! E' una verità! E' una verità! Tu devi accendere in cera a Sant'Andrea della Bufalotta. Perchè? Per il protettore dei fi della Mignotta. Ah, non è verità! Gli dovrebbero da tagliare le panni che dovrebbero! Era meglio che lo lasciavano a noi! Oh, stavo tagliata va bene! Oh, non ci passa più tante parti, la che fai! E' un uomo che li fa, no! E' un uomo dei copani! Ma stai, c'è il daia, un vero fra matti questo! Ok. Adesso, se mi dici chi è il tuo ricettatore, te lascia andare. Io non conosco ricettatori. E tutto quello che rubi che fai, lo dai ai poveri? Ma davvero me lascia andare? Te lo giuro sull'onore di quella zoccola di tua sorella. Si chiama Artartofaro, abita ripenta sopra all'osteria. E va bene. Adesso va. Guarda che siete piccoli l'altra volta che ti so' piselli da evacuare. Che porti? So' cazzi da cagà! Fila, fila!